Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. A gentile richiesta, come si suol dire e mi frullava nella mente da un po', con questo videocorso inauguro una nuova rubrica, Playlist, dedicata a un insieme di applicativi web per la didattica e per la scuola, gratuiti, liberi ed open source veramente interessanti. Parlo di La Digital e lo pronuncio proprio in francese, perché in realtà il progetto nasce in Francia, è un progetto libero e responsabile, un progetto che ripercorre diverse fasi vissute dagli sviluppatori che hanno tradotto la loro esperienza nella realizzazione di questi applicativi nell'insieme di risorse che troviamo scorrendo questa pagina web, seguitemi, andiamo verso il basso e vi traduco ogni voce naturalmente necessaria per rendere il tutto accessibile a tutti. Vedete che sotto Applications en ligne, le applicazioni online, troviamo i diversi titoli con una breve descrizione di ciò che andranno a fare queste apps. Sito di riferimento, barra degli indirizzi in alto, ladigitale.dev. Se in alto per caso avete voglia di cliccare su Cogere, ci sarà anche una piccola storia che racconta ad esempio come il nome La Digital possa avere diversi significati. E c'è una bellissima foto di una pianta particolarissima in tal senso. Bando alle ciance inauguriamo questa rubrica e vado a scegliere tra le diverse applicazioni DigiCard. Attenti per ogni riquadro ed ogni applicazione vedrete che noi avremo Decouvrir, Scoprire e Utiliser, Usare. Andiamo proprio a scegliere l'utilizzo pratico. A cosa serve DigiCard? Avete presente le flashcards? Avete presente quando vogliamo creare una vignetta istantanea, un fumetto, vogliamo fare storytelling in maniera semplice per ogni ordine di scuola? Ecco l'uso di DigiCard. Tasto blu, Crea une carte, creazione di una card. Attenzione bene, ecco la nostra area di lavoro, guardate la semplicità d'uso. Clicca sul pulsante ingranaggio in alto a destra. A che cosa serve? Laddove lo preferiate serve ad esempio perché con un clic su English abbiamo i menu principali in lingua inglese. Ed ecco qui ad esempio salta subito all'occhio che ha lavoro finito. Cliccheremo su Download Card per conservare il nostro lavoro. Clicco sulla piccola X in questa finestrina di dialogo che ha dialogato appunto con noi. Ora guardate bene, più pulsante in basso a destra. Cosa potrei scegliere? Potrei scegliere di caricare un file, uno sfondo, il background, un oggetto, un testo. Vediamo un po'. Io clicco su background per farvi vedere che abbiamo la possibilità di fare che cosa? Di scegliere, ora l'applicativo piano pianino li sta caricando, o dei colori di sfondo nella nostra disponibilità, colori pastello, o la possibilità di ricercare una eventuale immagine all'interno della libreria di immagini libere dal diritto d'autore, quindi la libreria di Pixabay, ne parlo in un mio videocorso tematico, oppure cliccando su Select an Image, noi potremmo come sfondo utilizzare una nostra immagine personale. Allora vado a selezionare dalla tavolozza, quindi dal pulsante rotondo in alto a sinistra di colore bianco, un colore di sfondo a nostro gusto. Quindi vado a prendere per esempio, ancora capirete perché, giallino quasi pergamena, lo clicco, vado poi a osservare l'anteprima e vedete che a questo punto clicco sulla piccola X sfondo della flashcard o della vignetta inserito. Ritorniamo sul pulsante più in basso a destra, questa volta per selezionare file. Perché vi parlo di file? Perché io ho precedentemente scaricato e selezionato una immagine, in questo caso una immagine JPEG a mo' di figurina. Vedete in realtà che c'è un reticolato alle spalle tipico delle immagini PNG trasparenti, ma mi piaceva proprio l'idea della figu, no? della figurina da poter applicare, un centurione romano. Perché un centurione romano? Perché io posso posizionare il mio personaggio, in questo caso volutamente rettangolare a mo' di figurina, e posso arricchire questo personaggio di un testo esplicativo. Una delle applicazioni web e non solo, più semplici che io abbia visto ed utilizzato per creare flashcards o fumetti. E perché ho fatto questa precisazione? Ancora una volta andiamo sul pulsante più in basso a destra, un clic su text e questo è il nostro testo da digitare. Un grande classico? Ave Cesare, punto esclamativo, e un clic su head per confermare. Vedete che stile Canva, altra formidabile applicazione web, e la trovate sempre qui censita sul mio canale, se clicco osservo solo le barre degli strumenti dell'elemento su cui ho cliccato, così non ho distrazioni in tal senso. Se clicco su Ave Cesare, io che cosa vedo? Ad esempio, vedo il colore del mio testo, vedo la tendina che mi consente di cambiare il tipo di carattere, quindi modifico il font, in questo caso del mio testo. Mediante la maniglia di ridimensionamento angolare, posso gestire, mantenendo le proporzioni, la mia casella di testo. E già qui avrei creato una flashcard semplicissima, rapidissima, con qualsiasi dispositivo io abbia a disposizione, dal personal computer allo smartphone al tablet, perché stiamo lavorando via browser, ma se torno sul più, in basso a destra, vado su Object, Objet, in francese, ecco perché mi avete sentito parlare di fumetto, perché guardate la semplicità d'uso. È un centurione romano, clic, che deve pronunciare la frase Ave Cesare, io sposto la mia nuvoletta, sposto il mio centurione, prendo il mio testo, clic tasto sinistro, ecco che cosa intendo con prendo, eventualmente mediante la maniglia di ridimensionamento lo compatto un pochino, trascino con il tasto sinistro premuto del mouse, attenzione bene, come potete osservare trascinando e creando il mio fumetto, pare che la scritta vada al di sotto del balloon, al di sotto della vignetta. Come posso fare? Guardiamo con attenzione, barra degli strumenti del testo, perché è quello in selezione in questo momento, un clic su Put in front, il classico porta in primo piano, porta in avanti, sposto con il tasto sinistro, premuto la mia scritta e guardate. Io con digicard, dovrei dire digicard, buy la digital, veramente in un attimo, creo una immagine esplicativa corredata da testo, una flashcard, immagine, testo descrittivo, un fumetto. Non posso in questo caso aggiungere pagine, ma è pur vero che è creata la prima sequenza di un ipotetico storyboard, perché digicard lo posso utilizzare anche ottimamente per lo storytelling. Io ho elaborato il primo quadro, la mia prima area di lavoro, vado sull'ingranaggio, pulsante in alto a destra, clicco su download card, scaricheremo in formato PNG, quindi un formato grafico qualitativamente di soddisfazione per noi. Questa è la nostra, neanche flashcard, direi proprio vignetta 1 antica Roma, un clic su salva sempre dopo aver verificato dove stiamo esportando il nostro lavoro e davvero in poche mosse, con uno strumento che fa un uso saggio ed avveduto dei nostri dati, perché i server del progetto La Digital si trovano in Svizzera e godono dunque non solo della neutralità dello Stato, ma godono anche della policy, cioè della politica che la Svizzera applica anche ai server contenuti all'interno del paese, perché ricordiamoci che anche a scuola avere contezza di dove e come vadano e vengano gestiti i nostri dati è una responsabilità comune di tutti noi che non possiamo trascurare. Ed allora, non c'è davvero un motivo per non usare e non servirci di DigiCard by La Digital? Vi do sindora appuntamento al prossimo videocorso, sempre qui all'interno della playlist che oggi inauguro e che è dedicata e sarà dedicata all'intero pacchetto open source a base di software libero di applicazioni web contenute in La Digital. Un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e a presto! Ciao!